Una serata speciale che ha visto intrecciarsi arte e musica, quella della presentazione del restauro dell'icona della Madonna della Catena nella chiesa di San Silvestro al Quirinale, voluta dall'Associazione I Cammini di Francesco. Nata all'inizio dell'anno ha come obiettivo l'inserimento in un unico contesto spirituale di tutte le realtà umbre, toscane, laziali, marchigiane e romagnole che hanno interessato i cammini francescani al fine di realizzare un più ampio progetto di valorizzazione e promozione da presentare all'Unione Europea per un riconoscimento ufficiale, come spiega il prefetto Giorgio Piccirillo, presidente dell'Associazione. Presenteremo all'Unione Europea questo progetto complessivo dal quale dovrebbero scaturire dei finanziamenti in modo da stimolare l'interesse turistico religioso, da incrementare le attività socio-economiche sulle realtà attraversate dai cammini di Francesco. Questa sera l'Associazione si presenta per la prima volta, diciamo formalmente, prendendo come spunto la presentazione dell'icona della Madonna Santissima della catena restaurata e riesposta qui a San Silvestro al Quirinale. Ci siamo fatti un po' interpreti dello spirito di donazione di San Francesco, offrendo questa serata per il reinserimento dell'icona nell'ambito di questa chiesa. L'icona mariana è stata narrata idealmente dalla musica del coro Virgo Fidelis del Comando Generale dei Carabinieri, che ha risuonato all'interno della chiesa. La musica che parla di arte, grazie al coro Virgo Fidelis del Comando Generale dei Carabinieri, che ha già avuto parecchie serate in questa chiesa. Questa sera cerchiamo di associare il concetto di arte e di musica nella convinzione che la musica sia l'espressione suprema dell'arte. Un messaggio spirituale che parte dall'esempio del Santo Poverello per arrivare alla valorizzazione dell'interesse dei turisti religiosi che percorrono in maniera sempre più numerosa gli itinerari francescani, come sottolineato dal segretario generale Fabrizio Nevola. Sostanzialmente il messaggio è un messaggio spirituale perché abbiamo potuto vedere che cosa significa fare, perché alcuni di noi ne hanno fatti dei pezzi, fare ovviamente la via di Santiago. Il nostro auspice è di riuscire a ripetere e a portare questo tipo di progetti davanti in modo che si possano avere le stesse possibilità che offre oggi la via di Santiago che, come lei sa, convoglia milioni di persone. L'icona, come spiega lo storico dell'arte e direttore dei lavori di restauro Paolo Castellani, è collocata nella cappella di San Silvestro al Quirinale dal 1650 ed è una delle più antiche icone mariane di Roma attribuibili al primo quarto del 200. Perché appunto fu collocata in questa nicchia piuttosto in alto, in effetti al di sopra dell'altare e fu incorniciata da un altro dipinto, cioè da questa tela di Giacinto Gimignani che tuttora la incornisce, appunto realizzata, si crede più o meno nell'anno, per un'occasione dell'anno santo del 1650. Da allora questa appunto è la sua collocazione definitiva. Con il restauro dell'icona continua la liaison tra pubblico e privato per la valorizzazione del patrimonio artistico romano, legame importante e quanto mai indispensabile, come spiega Marco Pomarici, presidente dell'Assemblea Capitolina. Siamo proprio qui a testimoniare, a nome per conto dell'amministrazione di Roma Capitale, a nome per conto del sindaco alemanno, per essere presenti in questo momento così importante, proprio nell'occasione di un restauro della Madonna della catena del XIII secolo, con fondi privati. Quindi è anche una sorta di breccia per ciò che si potrà fare anche per Roma nel futuro, una sorta di liaison tra l'amministrazione e i privati, per arrivare poi a dei risultati che possono migliorare in primis le opere d'arte e la vivibilità della nostra gente. Grazie a tutti.